Il Presidente Mario Lupo, il Presidente della Fondazione, che va accolto con un applauso oceanico, ma il primo che se ne deve andare per motivi di lavoro è Nicola Porro, perché c'è la trasmissione, poi niente, preso dalla fregola, cioè prima ha detto che rimango fino alle 7.35, poi sono diventate alle 6.20, alle 6-5 se ne va, anche perché si illude di trovare al volo... Allora, noi dobbiamo ricordare in questa nostra inaugurazione, però tenetevi la roba sopra, chiamate la gente, fatela sedere, se non portate, pigliate le sedie Saro, Luca, le sedie rosse che stanno anche di là, andate a rubare qualche sedia da quella parte, perché altrimenti ve la fate tutta in piedi fino alle 8 stasera. Allora... Il suggerimento di rubare non sia una componente... No, 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 no. Libero furto e libero Stato. E allora noi partiamo per questa centesima scuola del scuola di liberalismo, centesima perché noi siamo arrivati a questo numero partendo, essendo partiti nel lontano 1988, quando nessuna delle signore presenti era ancora nata naturalmente, perché le signore non nascono mai, hanno solamente la data di morte, il resto è affidato all'intelligenza degli interlocutori. Mentre invece nel 1988 l'ancora giovane Nicola Porro era ancora più giovane, in pratica era un bebè con sempre i suoi capelli biondi, era quest'area da putto del rinascimento, ma era già il segretario della gioventù liberale romana, che allora si chiamava GLR. I. Giusto? I. GLI, sempre anche... Ah, GLI, perché era... Sempre GLI. Sempre GLI, perché è gioventù liberale italiana. Sì, sì. E allora, quello fu il primo tentativo di scuola che venne ripreso poi un anno e mezzo dopo e poi abbiamo esportato la formula fuori dalle mura aureliane grazie a Elvira Ceritelli che sta là, è quella lunga 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 che saluta sul fondo, che vedete ogni tanto apparire, la quale, essendo andata a fare il primo anno di lavoro per la motorizzazione a Milano, portò la scuola a Milano. Nel frattempo a Napoli decisero di fare la stessa cosa e quindi noi abbiamo fatto poi Napoli, poi siamo andati a Messina, poi siamo andati a Bari, eccetera, insomma, scherzando e ridendo, siamo andati in 14 città. Le ultime delle quali, nante l'anno scorso, sono La Spezia e Lecce. La Spezia attualmente è in corso e Lecce comincerà, la seconda di Lecce comincerà il 9 di aprile. Quindi noi continuiamo, quella è la centunesima, ci tenevano tanto a essere loro la centesima, ma noi abbiamo giocato con i numeri per fare in maniera che la centesima fosse qua e insomma mi pare che fosse. E allora io quello che voglio da Nicola, prima che poi voi gli facciate anche delle domande impertinenti, che si ricordi, ci ricordi, quella avventura fatta a Piazzale Meucci che era all'inizio della Magliana, vicino a un deposito di carta straccia, che vedevamo dalla finestra, è vero, e dove i docenti furono Malagodi e Martino che sta arrivando. Peccato che si sia perso per strada, ma adesso arriva. Arriva sicuro. Vai. Va bene, allora, intanto non è una scusa, ma io ho due registrazioni oggi, in genere il giovedì, che si può vedere in diretta alle 9, vado in diretta, quindi lì ci sono pochi cavoli. In realtà devo registrare una puntata alle 6 che andrà in onda in seconda serata domani sera, quindi il problema è che mi hanno messo una seconda puntata oggi, siccome sono soldi, ogni puntata che faccio, caro Morbelli, io l'accetto di buon grado. Per i giovani che vengono per la prima volta alla scuola di liberalismo, sappiate che prima cosa i quattrini, poi dopo... Esatto, anche perché ti sei dimenticato che ho preso un premio, che erano soldi all'epoca, c'è ancora il premio con i soldini? Certo. Sta diminuendo a vista d'occhio però. No, meno di 500 mila lire che mi hai dato nell'88 non può essere. No, perché sono 500 euro, quindi... Ah beh, allora niente, sì. Ecco, quindi le cose per certi versi sono migliorate, è diminuito il numero dei donatori, ma insomma, poi alla fine qualcosa si rimedia. La cosa che mi ricordo, devo dire che eravamo un gruppetto veramente residuo, proprio inutile, di giovani appartati e l'idea che tutti si facevano di noi, che i giovani liberali erano fighetti, ricchi, è un po' snob. Poi noi ci troviamo, questi dieci ragazzi, in un posto che dire brutto era dire poco, che aveva trovato Morbelli, non so come potesse esistere un posto così brutto, perché era un sottoscala, non c'erano i cellulari, quindi non era un problema di copertura all'epoca, ma era un sottoscala della Magliana dove se avessero saputo che eravamo lì a fare una roba di giorni liberali, scimenavano pure, perché era uno dei posti più inospitali che voi possiate, ma altro che sedie rosse, c'era una specie di gruppetto di sedie, messe un po' alla rinfusa, con questi professori che ci raccontavano e ci leggevano delle cose che per noi erano veramente inedite, perché insomma, la cosa che aveva la scuola di liberalismo, nella prima scuola di liberalismo, che ti raccontava quello che gli altri non ti raccontano, perché oggi tutti quanti parlano un po' di liberali, mentre noi all'epoca con Martino e gli altri abbiamo conosciuto un'anima liberale che forse anche ora non va molto di moda, noi abbiamo conosciuto Nozick, abbiamo conosciuto Rothbard, abbiamo conosciuto Hayek, abbiamo conosciuto Milton Friedman, abbiamo conosciuto i testi di Antiseri, poi col tempo un po' queste cose sono diventate anche di moda mai, però comunque loro ci facevano leggere delle robe che erano proprio la controcultura liberale e all'interno dello stesso partito liberale, da cui i polti di noi arrivavano, e quella non era la lettura del partito liberale, il partito liberale era un partito di socialisti all'epoca, comandava Zanone, insomma, si capisce già da che parte stavo io, poi Fondazione Naudi, quella dove siamo noi, era una fondazione sostanzialmente socialista, e noi eravamo quindi la minoranza della minoranza di un partito di minoranza, quindi eravamo veramente un piccolo scenacolo di persone. Questo è quello che noi ci sentivamo all'epoca, e che in realtà siamo stati. L'unica cosa che vorrei dirvi in più, perché poi non è che c'è da fare tante discussioni, e questo ve lo dico con grandissima, secondo me, serietà, anche se c'è uno scherzo. I liberali che uscirono da quella scuola si distinguono di due tipi, e che hanno tutti e due due difetti enormi. Il primo tipo è quello che immodestamente rappresento io, e cioè quello che ha la voglia di rappresentare la cultura comunque sia di minoranza, e quindi c'è questa specie di, non dico nostalgia della bu, però una nostalgia di essere comunque minoranza, e di dire sempre la cosa che comunque non è quella che la massa in quel momento pensa, che è tremenda, perché è un'elezione dello spirito critico anche nei confronti del capello, e questo è un grave problema, perché ti fa sempre essere dalla parte sbagliata o comunque dalla parte minoritaria, il che non è be, non è buono, lo dico senza, cioè qualche volta invece sono, soprattutto per chi fa il nostro mestiero, per chi ha bell'età politica, il compromesso, l'accettazione dell'altro, cioè sono valori, quindi lo considero veramente non in termini retorici una minoranza, ma l'altra categoria è peggio, perché quella sono i conigli liberali, un ministro della salute, come si chiama la Lorenzin, ha fatto la scuola di liberalismo, e certo la Lorenzin non può essere considerata una liberale, a differenza del professor Martino che sta arrivando con... bravo! e... ma no, sei puntualissimo, ma... ho il quarto d'ora accademico, non l'ho mai fatto quello che insegnavo ma non è solo quello, è che noi abbiamo un quarto d'ora all'antigio per colpa sua e concludo rapidamente, e quindi c'è quell'altro lato invece dei liberali che sono veramente in grado di andare d'accordo con tutti, e anche in quella scuola lì, quella cultura un pochino c'era, cioè di quelli che prendevano il liberalismo alla carte e soltanto sulle cose che gli interessavano sul momento, e quello è il secondo lato, diciamo, della nostra scuola la vera impressione però che io ebbi in quell'88 è che veramente è stato l'unico momento in cui tu inizi a leggere, a vedere e a sentire cose che in quel momento, anche noi che provenivamo dal Partito Liberale, che quindi teoricamente, stiamo parlando di quindicenni, sedicenni, che quindi teoricamente era terreno fertile per avere quelle idee, in realtà erano ancora non lette minoritarie anche in quell'aggregazione, quindi immaginate oggi quanto questo sia indispensabile a differenza dell'epoca, quello che vedo è che, se poi il professor Martino magari ci aiuterà a capire, che all'epoca c'erano 4-5 cose che veramente valeva la pena essere lette, che erano, come posso dire, contemporanee quasi, cioè in quel momento avvenivano, oggi io avrei molta più difficoltà a capire che cosa c'è di liberale in termini contemporanei dal punto di vista di innovazione, cioè sui grandi e le grandi sfide del futuro, quelle che mi appassionano ora, il big data, l'informazione, il diritto all'oblio, sto parlando semplicemente di svolte tecnologiche, ecco, quello mi sarebbe molto divertito oggi capire chi sono i grandi pensatori, quali sono i Nozick di oggi, chi sono le Inruand di oggi, chi sono gli IEC di legge e legislibertà di oggi, adesso così contemporanei non erano perché arrivavano 30-40 anni prima, però comunque erano, buongiorno, io direi che mi sembra sufficiente, come sta? Allora il professor Da Empoli che è stato un altro pilastro della scuola del liberalismo anche se non ha fatto la prima, allora i docenti della prima erano Malagodi, erano... Ma Malagodi io non me lo ricordo, secondo me è un blesse. Allora Malagodi fu quello che per primo raccontò una cosa che ha lasciato poi il segno, nel senso che oggi tutti quanti dicono che le rivoluzioni sono state quelle liberali, le vere rivoluzioni sono quella inglese e quella americana, poi dopo è venuta quella francese, ma noi allora al liceo si partiva da quella francese, vagamente si accennava a quella americana, ma di quella inglese non si parlava affatto. Oggi si parla ormai comunemente delle tre grandi rivoluzioni atlantiche che sono quelle che hanno formato la società liberale di qua e di là appunto dell'Atlantico e questo fu il discorso che fece Malagodi. Lo so per motivi familiari perché mio figlio interrogato in storia, erano i 40 gli allievi alla fine, poi ne cito pure qualcuno, raccontò questa cosa a scuola e prese otto perché nessuno lo sapeva, perché compreso il professore, non ci aveva mai pensato neanche il professore, ma te chi te l'ha detto? Ma veramente me l'ha detto Malagodi? Vabbè, otto e quindi questa cosa ha lasciato una traccia nella storia della famiglia Morbelli. Ma va detto anche che quello che prese la borsa piena, la borsa più cospicua, che era un milione e mezzo, non il mezzo milione che abbiamo dato a Nicola Porro Porro, era Stefano De Luca, Stefano De Luca che è omonimo di uno Stefano De Luca che è deputato liberale ma non c'entrava niente e adesso è professore all'Istituto Sant'Ursola a Napoli. E l'altro era il professor Frosini, un altro che è borsista eccetera. E poi mi sfugge il nome ma mi verrà prima della fine, il nostro fiore all'occhiello è una ragazza la quale avendo poi fatto una sventagliata di concorsi a destra e a sinistra, il primo che ha vinto ha fatto quella carriera, attualmente è direttore del carcere di Civitavecchia, quindi se vi dovesse capitare di andare, di essere reclusi nel carcere di Civitavecchia, fatemi una telefonata avrete un trattamento di favore, dice io ho fatto la scuola di liberalismo, pure io, vi metto in una cella col tappetino, non mi ricordo come sia, ma no, basta devo prendere l'elenco e ci siamo, va bene? Vai con Martino perché c'è stato un periodo in cui Antonio Martino è venuto sempre, ogni anno c'aveva una lezione, qualche volta anche due, l'ho trascinata a Messina, siamo andati a Napoli, abbiamo fatto di tutto e di più, fin tanto a me è quello che mi ha rovinato, mi ha rovinato, dice a me mi ha rovinato la guerra, diceva quello, no, a me mi ha rovinato il ministero, da quando è diventato ministro la prima volta, poi la seconda volta e quello è stato un blocco che è inevitabile, il cui lui ha stoppato, ma ha ripreso, ha ripreso, stavolta a tradimento dicendo vieni a fare un saluto, ma insomma l'anno scorso abbiamo chiuso Bologna, quindi cioè ormai è ritornato, di fatti stiamo pensando anche di incrementare il suo vitalizio, c'è un vitalizio per i docenti della scuola di liberalismo, dobbiamo dire, non lo sapevi, ma forse anche qualche centesimo in più, capito? E prima però di Antonio c'è il saluto del presidente della fondazione che è Mario Lupo. Mario. Ma devo dire, non vi spaventate, brevissimo e soprattutto ispirato a due motivazioni fondamentali, la prima è la presenza di Antonio Martino, io debbo ricordare a me stesso, perché voi lo sapete benissimo e me lo insegnate, che Gaetano Martino, suo padre, è stato il primo presidente nella storia della fondazione Inaudi, io sono un tardo e immeritevole pigono di tanto predecessore e quindi desideravo rivolgere ad Antonio un saluto affettuosissimo e grato, grato a lui, grato alla sua famiglia, grato al suo papà, che io fra l'altro essendo sicuramente, se non c'è franco chiarenza, perché altrimenti ce la battiamo, sono il meno giovane di tutti voi, ho conosciuto e ricordo comiziante liberale a Messina e nella provincia di Messina per le elezioni del 48 e io mi ricordo questo personaggio mitico per tutti anche io ero un ragazzino, adesso non immaginate che fosse, ma questo nome di Gaetano Martino ci riempiva, già ero un liberale in erba, ma ci riempiva di orgoglio, eravamo fieri ecco di essere al suo cospetto, nella sua presenza e desideravo ad Antonio rendere questa testimonianza antica e ringraziarlo ancora, sono stato anche amicissimo di una sua carissima sorella scomparsa di recente, veramente una persona carissima Carla al mio cuore e al mio ricordo e il secondo motivo per cui sono qui con voi, oltre che questo riconoscimento doverosissimo a Martino e alla sua famiglia, una parola della fondazione. La fondazione ha vissuto in tempi recentissimi e ancora in qualche misura vive e ve lo devo dire non senza una pena intima e non senza forti apprezzioni, una fase difficilissima della sua vita, con minaccia ancora presente che speriamo di poter parare e superare di scomparsa e di scioglimento per una condizione economico-finanziaria alla quale ahimè non sfuggono nessuna delle grandi istituzioni culturali del nostro paese. Con la cultura, diceva un ministro con una frase assai infelice e sbagliata, non si mangia, ma soprattutto la cultura non è sostenuta, non è finanziata dal pubblico e in tempi di crisi e di spending review vi potete immaginare quanto possa essere finanziata anche dall'impresa privata. Molto poco, direi quasi nulla. E quindi vi dico che ci stiamo battendo, ci stiamo battendo con grande impegno e speriamo, speriamo con qualche successo per evitare la scomparsa di questa prestigiosissima nostra fondazione, istituzione culturale che risale al 1962 fu creata un anno dopo la scomparsa di Luigi Inaudi per iniziativa dell'allora segretario del Partito Liberale Giovanni Malagodi e speriamo, speriamo, c'è qualche prospettiva positiva che si è dischiusa di recente di poter evitare un esito in fausto della nostra vicenda, ahimè mortale come tutte le cose umane, ma speriamo di poter rinviare a lungo nel tempo, speriamo nei secoli, ecco questo esito in fausto. Ne abbiamo parlato ancora ieri sera, qualche amico era insieme con noi ed era presente, saluto con l'occasione il professor Pedroni che era insieme con noi a discutere di prospettive di possibile rivitalizzazione e rilancio della fondazione, speriamo che si concretizzino positivamente, ci stiamo tutti impegnando in questa direzione, saluto e ringrazio i molti giovani presenti a questa centesima edizione della Scuola di Liberalismo, ringrazio i relatori, il professor Pedroni innanzitutto, l'amico Martino Giadetto, non mi ripeto, e l'amico Domenico D'Empoli, ecco che sono sempre stati molto vicini alla fondazione e continuano ad esserlo. Grazie.